e la gente benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su flash of clasp ahhh grande ce l'abbiamo fatto a parlauta nel primo colpo oggi come vedete siamo con anita che ride già perché ridi cosa c'hai da ridere ah perché ti ho messo il cappellino ti ho messo il cappellino come quello che uso io cioè è lo stesso non come siamo un po tagliati nell'inquadratura però è normale perché il green screen cioè è un green screen per una persona non per due siamo siamo uno di troppo qua ok diciamo che oggi sei tu la protagonista quindi togliti la maglietta che cos'hai capito togliti la maglietta scusa no la metto sopra no gli iscritti non pensano male nooo sa me la tolgo io fai una canzone sexy nel frattempo da 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 te guarda così come stai bene eh così registro col mio logo ragazzi nel vero senso della parola si non si deve vedere il logo per forza stai normale cioè ha tenuto la felpa sotto peggio dei barboni è proprio freddolosa stai pagando tutto il green screen per sederti normalmente basta stai fermo un attimo ma allora spieghiamo un po di cose perché guardare lì si hai ragione devo guardare lì è bello che gli ho detto io che non bisogna guardare lì ma bisogna guardare lì perché la videocamera non guardare lì allora stavo dicendo che dobbiamo spiegare un po di cose questo che cos'è che molti non l'hanno mai visto come perché mi togli i capelli mi servono spiega che cos'è sto coso per favore sarebbe il mio villaggio di clash of clans allora sarebbe uno dei miei villaggi di clash of clans che ha sempre utilizzato lei diciamola così l'ha scaricato sul mio telefono ti è un po' grande questa maglietta devo dire eh no no un pochino grande sì è grande a me figuriamoci ma ehm questo che cos'è che cos'è questo allora ragazzi questa scusa me la devo raccontare io una volta noi avevamo un clan che veniva utilizzato per le lives lei nel frattempo raccoglie risorse perché è inattivissima e questo clan si chiamava ferrofolpo non so chi se lo ricorda ma wow sì oddio il carrello del loot quanta roba c'aveva dentro sa tu nel frattempo fai un giro di raccolta ostacoli io nel frattempo spiego un attimino come vorrei strutturare questo video allora abbiamo due eserciti pronti con una tecnica per th9 che vi andrò a spiegare tra poco che comunque abbiamo già visto ehm proverò ad attaccare prima io e poi proverà ad attaccare anche lei però lei tipo apre clash of clans una volta all'anno e quindi non so che cosa uscirà fuori altra cosa che volevo dire mentre lei continua a rimuovere degli ostacoli è che in realtà l'avrei voluto dire nella intro ma è stata un po' movimentata se il video con l'anita vi piace supportatelo con un bel like con un bel commento perché se vede un buon supporto la costringerò a fare altri video con me esatto scusa io non ho i capelli lunghi li voglio anche io i capelli lunghi pronta 3 2 1 ok ridiamo con poco siamo un po' più idioti assieme fai un salto anche qua nel villaggio oh mio dio quanti ostacoli devi rimuovere oh mio dio no non li rimuovere no non li tieni tieni direttamente tu non hai un villaggio notturno tu non ce l'hai dai allora comincio ad attaccare io e poi tu cerchi di attaccare bene come me la tecnica consiste in un draghi mongolfiere e sgherri non richiediamo le truppe del castello del clan perché in questo clan non c'è nessuno cucciolo di drago cucciolo di drago scusami hai ragione praticamente butto il cucciolo di drago che da solo attiva la sua abilità ovvero la furia dietro butto delle mongolfiere ok che praticamente sfruttano baby dragon come tank e vanno a tirare giù tori dell'arciere o difesa aeree ma difesa aeree è difficile infatti io proverò a tirare giù le difese aeree per te ho fatto una cosa più facile e poi vabbè ci sono dieci sgherri così easy per andare a fare un po' di percentuale e come pozioni una veleno per il castello del clan e il resto tutte rapidità tu invece ti faccio già vedere avrai rapidità veleno e una doppia tuono con terremoto che lanci subito all'inizio dell'attacco per far fuori una difesa esatto vedi che un po' un po' ti ricordi un pochino un pochino anita ha fatto notare una cosa interessante non possiamo cantare oggi se siamo in neanche lega cristallo duemila coppe quindi dobbiamo cantare già adesso che cosa si può cantare dai te la intono io una canzone che ogni tanto esce a caso non chiedeteci perché ve l'ho detto il nostro è un rapporto strano mister mandarino dai assecondami se no pensano che sono pazzo assecondami ole ole mister mandarino dimmi dove sei dimmi dove vai basta attacchi attacco più che attacchiamo no lasciami perdere basta ferri in questo momento sta provando riprovando la gioia di schippare si è meraviglioso infatti ero incantato ero incantato è una cosa è una cosa fantastica cioè guardate in un secondo oh mio dio oh che cosa bella con gli orkix scarichi e i reali più scarsi dei tuoi rendiamoci conto ce ne va allora 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 con calma anche perché senza calma non si attacca andiamo con uno sgherro perfetto bellissimo quello sgherro uno sgherro anche qua oh ma che belli questi sgherri infamosi e uno sgherrino anche lì uno sgherrino anche qui ok andiamo adesso con un baby dragon tre mongolfiere e la prima rapidità vedete cosa succede sbam va giù la torre del 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 e praticamente il baby dragon attacca tutto quanto indisturbato anche qua sgherrino perché il baby dragon va sotto poi qua abbiamo ste tribelle che per adesso le lasciamo un attino tranquille la torre bombardiera ricordati che colpisce solamente truppe di terra poi qua di nuovo stesso lavoro di prima facciamo così facciamo così ok in realtà quando sono così vicine la rapidità è quasi superflua a dire il vero ma non sarebbero due mongolfiere per cucciolo di dragon si sarebbero due mongolfiere ne uso tre perché comunque è un villaggio tranquillissimo sto qua e quindi ci sta ci sta a fare così facciamo così facciamo così facciamo così e facciamo così ok vai così grande mamma mia stiamo attaccando quasi proprio stiamo facendo un attacco serio allora bene 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 andiamo a pigliarci ancora questa capanna del muratore e andiamo a pigliarci anche questa e questa giusto per sfizio perché io ho un po' le manie del secondo villaggio che te ovviamente non puoi capire ci mancarebbe altro e attacchiamo così ok non succede niente andiamo con un baby dragon tre mongolfiere stavolta facciamo così ok così almeno facciamo doppio baby dragon e il resto delle mongolfiere qua ok andiamo anche con i reali a sto giro vado con altre due rapidite regalite fraternite andiamo così il municipio non l'ho cagato di striscio fantastico andiamo anche così e così ho più pochissimi secondi mi dovevo muovere invece sono stato un pollo adesso cosa faccio andiamo a prenderci quei depositi e sayonara eh si allora vediamo se riesco ad andare tipo così ma tanto non ce la farò mai andiamo con una rapidità lì giusto per i reali ok il re barbero va a fare da tank la regina attiva l'abilità e vai fammi fuori la regina avversaria no mi tira giù le difese aeree ok vai tira giù quella maledetta tira giù quella maledetta ok non ho pensato al fatto che ti dovrò spendere due gemme per la regina perché te l'avevo quasi uccisa onesto come cosa ok aspetta eh aspetta 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 ok ho salvato il re barbaro 8 copie 416.000 537.000 1260 di nero e noto che Anita si è mutata nel momento in cui l'ho attaccato io ma perché te ma c'è un regalo ma per stavo per dire la stessa cosa però mi hai fatto ridere perché me l'hai detto ma ma c'è un regalo in effetti perché è giallo non erano rossi i regali vabbè ma perché c'è un regalo perché c'è stato un evento di Natale che quando ti buttavano la pozione di Babbo Natale passava Babbo Natale che faccio e fai ragazzi c'hai i crampi non pensate male cosa pensa la gente che fai oh oh hai capito che sei scomoda anche te ti stedi addosso a me una vecchia aia mi fai venire i crampi pure a me così non ho la videocamera sotto la schivagnia per far capire cosa succede cosa stai facendo non è male potreste attaccarlo come come hai visto prima da me con calma parti da un lato guarda dove ci sono gli estrattori che ti interessano e parti con calma ripeto è una tecnica nuova per te però tu vai tranquilla allora parti con gli sgherri secondo me eh sì ma le le ah no tu parti con gli sgherri tranquilla dove pensi che possa servire ma pensa con calma puoi zoomare ricordati che ok bene anzi se zoom è meglio perché vedono meglio i nostri cari iscritti scusate ancora una volta per il green screen è normale ragazzi che sia così si bagga un po' quando sei in due che poi ci muoviamo un sacco lei sta andando con gli sgherri piano piano ok adesso guarda bene gli estrattori e devi capire dove ci sono i torri dell'arciere non ci va assolutamente tipo lassù non c'è drammai un sgherro la destra neanche sotto guarda un po' ma non c'è pezzato uno qua ma non c'è anche lì allora potresti partire magari da quella torre dell'arciere lì con un baby dragon e le mongolfiere dietro baby dragon da tank fai come volevi tu ah no tre mongolfiere una rapidità ci potrebbe stare sì ok dai 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 ci sta eh c'hai il volano a rompere le balle ok è normale adesso poi quale butto giù questa questa e devi capire devi capirlo tu quello io onestamente ti sconsiglio di andare da sopra perché c'è i reali che rompono magari quindi questa potresti provare a tirarti giù quella lì più bassa e mangiarti il lato sotto ecco esatto così e così vediamo un pochino se non le hai sbagliate ok no potrebbe essere che sono di livello basso potrebbe essere quello il problema però aspetta puoi usare comunque la stessa tecnica baby dragon mongolfiere ne bastano due rapidità sì ok dopo mongolfiera rapidità sulle mongolfiere e in teoria e in teoria vanno sulla torre sulla torre dell'arciere giustamente ok ok oh che culo che culo che culo quindi parto adesso no 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 con calma di nuovo c'è un'altra torre dell'arciere che ti rompe le balle in basso quindi di nuovo falla fuori stessa tecnica stessa tecnica adesso non hai più rapidità perché hai usato le altre pozioni e ti hanno svantaggiato un pochito ok sopra hai un po' di sì hai qualche spiraglio io ce lo vedo sopra però muoviti perché non ti basta più il tempo se no eh vai vai tranquilla ok bella cattiva così brava bravissima hai anche i reali che potresti buttare di là volendo ok adesso vai con le ultime truppe e lì c'è un po' di spiraglio forse per attaccare vai con delle mongolfiere ok ma sì vai di fantasia abilità della regina scusa te l'ho attivata io perché sennò la perdevi proprio easy ricordati che i baby dragon non vanno messi vicini abilità del re veloce ok guarda sempre sopra hai un estrattore libero lì in basso ci basta uno sgherro ci basta uno sgherro sull'estrattore e là hai una miniera libera ok e insisti sempre da destra insisti ok vabbè va bene così va bene così dopo è veleno sui reali così a cazzo che tra l'altro non l'ho usata prima la veleno sennò tu avevi una rapidità in più bravo eh oh non me l'hai detto tu che mi trovi sempre tutti gli errori del mondo non mi hai detto che non ho usato le veleno dobbiamo dare che i reali adesso quando ci butti la veleno sopra si spostano oh e allora perché me l'hai fatta buttare per buttarla però io intanto ho il bonus il bonus ci credo io prima ero senza lega ci credo che c'è il bonus sa vediamo un pochettino vogliamo farli di upgrade o no allora Anita suggerisce di fare quello che consiglia il costruttore in effetti costa poco magari riusciamo a occupare un po' di moratori vai procedi con cosa parti basta che clicchi basta che clicchi sopra proprio l'estrattore di lesire te lo dice vabbè fai come vuoi ok vediamo un po' primo estrattore ok qua stiamo ancora facendo gli estrattori ciaoone ma no sono gli ultimi due sono gli ultimi due ah beh sì è vero poi c'è ancora un livello ma più avanti boh vai a vedere gli altri upgrade cosa potresti fare in teoria aia costa no aspetta però aspetta hai del bonus ma non basta ok altrimenti i muretti anche tu dici di continuare questi muretti quanti possiamo possiamo farne sei in teoria sì costano un milione l'uno ne vuoi fare sei tre per un lato tre per l'altro facciamone sei vai vai boh fai sei murette vai ok uno due murette tre murette vai ancora con murette vai bene una murette due murette tre murette sono sei murette ok direi che per oggi puoi fermarti qua che proprio ti vedo provata da questo video di clash of clans e la puoi dire quella cosa che dico di solito delle schede in alto da questa parte cosa sono là le schede lì trovate le schede con i video con i video che ha sfornato sfornato negli ultimi giorni negli ultimi giorni e sempre lì arriverà l'altro ah questa è l'altro ah quell'altro di cui parlo sempre questa qui non l'avevo mai guardata bella bella e cosa c'è nell'altro c'è il video consigliato l'iconcina per iscrivervi al canale e l'iconcina per iscrivervi a boxit che è il suo secondo canale dove fa le recensioni ragazzi ci sarà una recensione con anita su boxit e pensate che lei non lo sa ancora non dico nient'altro quindi ci vi vedete domani sempre alle 5 un nuovo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti